Francesco Silvestri, una campagna elettorale ormai conclusa, quali sono le sue impressioni? Veramente una bella esperienza, è la prima volta che mi sono candidato in una lista, è la prima volta che mi sono candidato a sindaco per la lista numero due, il cuore per Verbi Caro, e devo dire che, al di là del fatto che io ho sempre avuto dei rapporti meravigliosi con la mia gente, la mia comunità, perché ho sempre creduto e ho amato il mio paese, in questi incontri nei quartieri e nelle piazze c'è l'entusiasmo, hanno capito la nostra voglia di esserci, anche perché noi viviamo a Verbi Caro, noi restiamo a Verbi Caro, e questo è lo slogan forte di questa nostra campagna elettorale, e poi l'impegno, la passione, l'energia, l'entusiasmo, le battaglie che abbiamo fatto negli anni passati, quando non c'era neanche il sospetto di una mia candidatura, anni dopo anni, nella mia militanza politica, culturale e sociale, il mio impegno civile, tutto questo sta facilitando il compito, ci danno, come mi diceva anche il direttore di questa radio, che segue un po' su Youtube tutti i messaggi che arrivano dopo aver visto le nostre interviste, c'è un consenso, un consenso anche e soprattutto giovanile, e questo mi fa molto piacere, perché anche i giovani hanno capito il linguaggio che noi stiamo parlando, un linguaggio che vogliamo una Verbi Caro diversa, con l'audacia della speranza si può, possiamo, e la speranza è fondamentale per dare un futuro alle nuove generazioni. Qual è il suo messaggio per gli elettori? Il mio messaggio è quello che prima di tutto bisogna, che noi ci dobbiamo rimboccare le maniche perché ci sono tanti problemi, e poi il messaggio è di speranza, di speranza, come dicevo prima, per un futuro migliore per i nostri figli e soprattutto per le generazioni che verranno. Verbi Caro può, anche perché ha dimostrato negli anni passati, dei grandi fermenti culturali e sociali. Poi c'è bisogno dell'impegno dell'amministrazione pubblica, e questa volta dobbiamo essere noi che dobbiamo andare dai cittadini o non i cittadini che debbano venire da noi. Le dobbiamo far partecipare, le dobbiamo coinvolgere. L'ho parlato l'altra volta in un'altra intervista, della consulta, di una consulta che è importante di partecipazione attiva della cittadinanza. Quindi tutte le aree geografiche debbano avere dei rappresentanti, dei delegati che partecipano direttamente alla vita amministrativa del Paese, cercando di cogliere i bisogni e i problemi. Poi la politica per un territorio, un territorio che deve essere vissuto come la nostra casa, cercando di evitare gli scempi che si sono fatti fino adesso, e vivendo questo nostro territorio come la casa dell'uomo. Anche su questo nel programma abbiamo inserito elementi importanti per riuscire a prevenire il dissesto del reo geologico. E poi molta attenzione alla valorizzazione della montagna, della valle della Batemarco, che per anni ne hanno parlato, però dopo 35 anni altri che sono candidati alla guida del Paese, anche in questa competizione, non hanno mai fatto nulla. Quindi noi vogliamo passare dalla politica del dire alla politica del fare. Ci crediamo, siamo una bella squadra, ben strutturata, vogliamo usare anche per iniziare una fase di rinnovamento nel nostro Paese. Poi diciamo sulle problematiche sociali e culturali, c'è tanto da lavorare, sul problema degli anziani, sul problema della cultura, sul problema dello sport, del tempo libero, c'è tanto da fare. Noi abbiamo un programma corposo che speriamo che perlomeno di realizzarlo nei primi cinque anni. Però ci metteremo tutti l'impegno, cercheremo questo rapporto diretto con la popolazione e quando c'è bisogno di mobilitazione per ottenere delle nostre cose, dei nostri diritti, faremo anche la mobilitazione, portando la gente nelle piazze e anche nelle sede sopra comunali, come la regione e la provincia per ottenere i nostri diritti. Quindi cercheremo di realizzare il nostro programma con la partecipazione attiva della cittadinanza. Per concludere voglio dire anche il fatto che molti giovani, al di là di Youtube, ci stanno scrivendo su Facebook. Voglio leggere solo alcune lettere, sono brevissime. Ce n'è una di Luciana. Ciao Francesco, trovo solo adesso il tempo per farti i miei migliori auguri per questa candidatura a sindaco di Verbicaro. È un impegno importante, pieno di grande responsabilità, ma sono convinto che tu riesca ad affrontare a testa alta questa nuova sfida. Del resto nella tua vita hai sempre avuto il coraggio, voglia di crescere e affrontare le sfide quotidiane e professionale, con grande decisione. Luciana, questo l'ha mandato il 34 del 2009 su Facebook. E poi un altro, carissimo Francesco, la tua candidatura a sindaco è stata un'ottima scelta. Ci conosciamo da una vita, per me sei veramente l'unica persona che possa sollevare le sorti di un paese alla deriva. Sei una persona che sa stare con i giovani, che sono il futuro di noi tutti. Da parte mia avrai tutto l'appoggio possibile per la tua lezione. Franco. E poi ancora Franco Di Giorno, ecco, dico anche il cognome. E poi concludo con questa molto bella che viene dalla Toscana. Che bello, ho un ricordo splendido di Verbi Caro. Con voi è un paese magico. Come quello ha bisogno di un sindaco come te, intelligente, passionale, coraggiosa e soprattutto innamorata del suo mondo. In bocca al lupo, Sara Funaro. Sara è la nipota, e questo forse è di buon auspicio, del sindaco di Firenze al Parietà dell'Alluvione di Piero Bargellino, un grande, uno scrittore di fama internazionale.